scicchissima Giulia, Giulia, Giulia Allora, come stai? Bene, tu? Mi devo impegnare? Perché Pierpaolo mi prende in giro per come cammino Dice che cammino male No, stasera hai camminato benissimo Infatti mi sono impegnata Ah, hai fatto lezione di portamento Esatto Senti, ma so che hai passato un weekend di amore con il tuo Pier Sono molto contento Ho visto su Instagram Ho anche raccolto qualche immagine Siamo andati un po' a sbirciare Guardate come sono innamorati questi due piccioccini